Questa è una cover di una protesi, di una gamba, ed è la componente del polpaccio. Il nostro progetto parte da una necessità da parte del nostro paziente, chiamiamolo così, che non avendo perduto la propria gamba, aveva la necessità di riempire il pantalone, ovvero oltre ad un aspetto tecnico, quello di motorio, c'era un aspetto un po' legato alla sensibilità della persona che è quando cammino non voglio far vedere il mio handicap. È venuto da noi, gli abbiamo fatto una scansione 3D della gamba sana, abbiamo in post-production modificato la scansione, abbiamo trovato un design un po' più minimale, abbiamo lavorato su materiali elastici e su geometrie generative come questa che permettono oltre ad aumentare la flessibilità del materiale, ma alleggeriscono anche il volume delle varie componenti e quindi c'è un miglior movimento da parte della persona.